Bella giornata insomma Siamo appena stati dal macellaio Cioè voi l'avete mai visto un osso grosso così? Cioè io pensavo fosse un femore Invece mi ha detto che era Praticamente questo Sì Mi ha detto che sarebbe questo pezzo qua Penso che sia di una mucca Oggi lo diamo Faremo felicissimo un cane Che poveraccio abita sempre da solo Quindi se lo merita un po' Ciao Luna vieni qua Vieni qua Luna Qua Però aspetta Luna Luna Piano eh Non ci credo No no lo diamo qua Io piace Io piace Non ho ancora capito che è un osso Vabbè niente Luna via Non prendiamo io Che si mangia cosa Dani? Oggi sono tornato qua ad Asti e praticamente siamo qua, guardate che bel panorama che c'è qua Cioè con tutta la vallata con linee e via dicendo E oggi ci siamo spaccati il culo perché abbiamo lavorato tutto il giorno Stiamo facendo un lavoro da due o tre anni tipo, no? Stiamo costruendo una cosa, sto registrando un tutorial anche per voi E niente, mi sono fatto malissimo oggi, ho tolto l'unghia nera, vabbè, perché ho il cemento sotto le unghie Ma mi sono pinzato il dito in mezzo alle pietre, lo so In questi ultimi due o tre vlog sembra che sono quello che si fa sempre male E sta sempre male che sono una frana, ma cioè capita di farsi male Giù di là, ma forse dico una cagata, giù di là ci dovrebbe essere il mare, no? Quindi che cosa succede? Che a fine giornata, probabilmente adesso mi sentite malissimo Mi copro un po' dal vento A fine giornata in tutte le località di mare aumenta il vento Perché appunto l'aria calda della terra e l'aria fredda del mare si scambiano e quindi aumenta il vento E questa vallata qui è fantastica perché da laggiù arriva un vento fortissimo Ed è solo qua c'è vento, cioè solo in cima a questa collina c'è vento Ed è così tutti i giorni Purtroppo non so se riuscite a vederlo, che bello che è il panorama che c'è lì Con la GoPro lo so si vede male Però guardate quanto vento c'è su questo campo Che appunto si vedono tutte quante le raffiche nel prato E' una cosa che io mi infazzisco per il vento Non so c'è qualcosa che proprio mi fa diventare il pene duro Perché a me piace un sacco fare windsurf, kite Infatti ho portato anche Che da l'aria di nuovo Grande Ehi 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 Che succede Ru? Sono attaccati bene? Che succede? questi ragazzi sono i momenti in cui mi sento proprio vivo pochi momenti in cui uno è felice nella vita purtroppo adesso c'è poco vento comunque dovrebbe aumentare abbiamo visto le previsioni poi siamo sopra la collina che vi dicevo adesso probabilmente non sentirete niente perché c'è troppo grazie a tutti ok Ah 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 Forza troia che male Oh No ragazzi che male Ah 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 Il risultato della giornata Una bruttissima slagatura alla caviglia Tant'è che pensavo fosse proprio rotta Sono andata all'ospedale cosa che solitamente Non faccio mai piuttosto mi tengo il male per 2-3 giorni Per vedere se migliora ma questa volta Non riuscivo proprio ad appoggiare il piede Il giorno dopo sono andato al pronto soccorso Mi hanno fatto 3 o 4 lastre nulla di grave Mi hanno detto che una ventina di giorni La slagatura cioè si dovrei guarire Tornare a camminare la cosa che mi dispiace Di più è che non posso tornare in cantina Per fine i miei progetti stavo lavorando Una cosa molto carina e purtroppo Siccome non posso fare le scale Rimane lì accantonata per un po' di tempo Quindi non stupitevi se sul mio primo canale Per un po' di tempo non compare nulla La cosa positiva che però Stando tutto il giorno davanti al computer Perché non posso camminare Ho avuto possibilità di comprare un sacco di oggetti Su ebay che appunto rimandavo sempre Perché non sapevo quali comprare E invece ho avuto il tempo necessario Per cercare bene tutto quello che mi serviva Ho avuto anche tutto quanto il tempo Per farmi due calcoli Calcoli di elettronica Per un progetto a cui sto lavorando Per quest'estate Sarà uno dei progetti più belli E più curati Che sicuramente saranno La punta del mio canale Perché ci metterò Tantissima passione Io amo il mare E sono sicuro che con questo progetto Si vedrà quanta passione ci ho messo In questo progetto Perché ci sto studiando da un bel po' di tempo Solitamente non mi faccio così male Come questa settimana Diciamo che sono stato un po' sfigato Nel senso che ho preso la scossa Mi è quasi esploso un disco di marmo in faccia Mi sono pinzato le unghie tra due pietroni Mi sono svolgato la caviglia Mi sono scheggiato un dente Quindi direi che però la sfiga Per me potrebbe anche bastare così Solitamente uno pensa Te la sei cercata ad usare un kite così grosso Per assurdo è quasi più sicuro Utilizzare un kite grosso che uno piccolo Nel senso che se voi fate un salto In questi giorni qua c'era vento Ma non era tantissimo Sono stati nemmeno 10 nodi di vento Quindi una mezza cagata Per assurdo è più sicuro Utilizzare un kite grosso Che è uno piccolo Perché ok vi fa saltare Però è anche vero che come riuscite a salire in alto Vi fa anche atterrare molto delicatamente Mentre se utilizzate un kite un po' più piccolo C'è il rischio che saltate sicuramente Ma atterrate vi fate un male porco Vi metto il link di me Che lo uso a Portoferro d'estate Qua erano tipo un video di 3-4 anni fa Era un kite delle palle Questo qua era un kite da 5 metri 6 metri non mi ricordo Una cosa un po' piccolina Quindi niente di così eclatante Da dire wow che figata Invece un canale molto bello di kite Se vi piacciono queste cose Si chiama SKD Day No, vabbè insomma la sigla è Super Kite Day Trovate il link qua nelle informazioni E noi ci sentiamo prestissimo Con un altro progetto appena mi riprendo E mi raccomando fatemi sapere Qual è finora il progetto che vi ha più colpito Tra tutti quelli che ho fatto finora E un saluto a tutti, ciao Grazie a tutti